Dopo l'addio a Tentation Island VIP, Serena e Pago parlano della fine della loro storia d'amore, durata sei anni, al settimanale Key. Mi fa male averlo lasciato, racconta l'ex estronista e corteggiatrice di uomini e donne, ma non lo amo più. Serena non ha dunque intenzione di tornare indietro, nonostante in questo periodo così difficile abbia perso sei chili e sia in cura da uno psicologo. Il cantante rivela invece quanto successo a poche ore dalla fine della trasmissione. Ci siamo visti, abbiamo pianto e parlato, ma oggi siamo lontani, non c'è futuro. E se Serena parteciperebbe di nuovo a Tentation Island, Pago non lo rifarebbe per il troppo dolore provato nel vedere la fidanzata allontanarsi da lui giorno dopo giorno.